Ed eccoci qui nella seconda rara di oggi intitolata chiamata il nome di Matador Allora, saluto anche Lupe Farahala che sta giocando con me Pronti? Via! Allora, c'è anche un rango 1000 Oh, lo sa subito, l'ho fatto arrivare un rango 1000 e sarà sicuramente portato Contento lui, va bene, così Allora, dappondito normalmente sono troppo alto Vabbè, allora Allora, niente, siamo tutto esporto tutto, va porca troia Dai, prendiamo sto checkpoint Se riusciamolo a morire Allora, va porca merda, non riesco A diventare secondo C'è questo mappol di venti Scusami tipo Che mi rompe le palle Ok, sono secondo momentaneamente C'è gente di livello 1000 e uno, porca troia Io sono rango così alto, essendo giocatore da PS3 Passato da PS4 Avendo fatto il cambio per personaggio personaggio dai 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 … sì preso,caz! Preso,preso... Preso… Preso,preso,preso… Preso,preso… Preso! Pessi… Girati! coordinating e cazzo lascia ed esce porca puttana! E porca merda li ho preso dai perfetto ok allora sono 24 checkpoint per questa gara 3 giro vediamo se riuscirò a stare in testa in confronto alla gara di prima e mi si è fatto rimontare sono riuscito a vincerla io non credo che qualcuno abbandonerà ok secondo giro iniziato perfetto ancora qua cazzo, frena Alex, frena sia la cazzo non c'è quanto è bonte allora c'è ancora gente che sta facendo il primo salto la prima rampa ok comunque anche se l'ho già presolutato prima Luca Falfalla lo risaluto Alfonso Alfonso bei amici nome vero Alfonso Bua allora dai 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 è esploso il coso della rivelazione qualcuno ci sarà tutto assolutamente e siamo ancora primi al secondo giro cerchiamo di vincere questa cazza di là cerchiamo di vincere terzo giro e ultimo giro la mia mitica T20 ormai sarà duro abbandonarti e l'auto più l'ho già adesso ancora nel gioco è la Banshee Banshee la Banshee elaborata da Benny però che non mi sono ancora comprato io so se mi comprerò T20 è cuore allora abbiamo due minuti sugli altri quindi non è che di fare cazzare possiamo portare a casa la vittoria e la pagnotta e un po' di soldini allora 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 no 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 ma porco il cazzo allora rifacciamo un salto qui per quello esplodo un po' scoleggiato non lo so allora dai ma porca merda riavviamo siamo tra giù il tetto e andiamo a vincere signore e signore le rampe difficili che abbiamo fatto ovviamente se non esplodiamo siamo contenti abbiamo due minuti su gli altri quindi la paritola è nostra ok e andiamo a vincere signore e signori grazie per il supporto che mi sta tirando l'abbiamo vinta metto lì ed eccoci qui con un'altra gara di oggi allora gara con le moto solo a prima non sono male personalizzate non si può scegliere altre tipo di moto vediamo com'è allora sono 42 point minchia che cazzo spiriti ma porca mattina allora abbiamo la cazza di questa gara ma affanculo allora ho perso la prima posizione semmai la vera la vera sì no ho capito preso male preso male puoi avviare grandissimo preso porca buttata ok ok adesso no cazzo ti vuoi aprire in corsa porca questa porca puoi aprire in corsa puoi aprire in corsa dai porco il cazzo ai porca di quella pu dana sia alleluia cazzo dai no 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 che cazzo ho fatto preso ok ok abbiamo preso abbiamo preso ragazzi abbiamo preso oh porca merda cazzo ho provato bestemmia gogo piano 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 leggera angolatura piano 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 preso ragazzi, preso, va a fare il culo, va preso, porca merda va a fare il culo piano, piano, piano piano Alex, sei in testa dopo 28 minuti dove cazzo devo andare qua adesso? ma siamo scemi siamo scemi va a fare il culo prima che arrivino tutti i robicoglioni qua che non mi fai non riesco più no, passare dai, 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 dai che abbiamo una scena di vantaggio sfruttiamola no, 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 no ma che cazzo fai? moto di merda devo già appiandare prima, cazzo c'ero riuscito prima, porca troia e andiamo vaffanculo e andiamo, cazzo andiamo porco porco il cazzo porca di quell'altro voglio di pua madre santa si ma grande, grande, grande dai, 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 dai adesso qua che cazzo devo fare? vai giù, scendiamo sta maledetto mi cazzo e eravamo solo a tredicismo c'è poi io quando devo finire questa gara non ci scappa un porca madonna ok adesso qua e ma si siete proprio di cornuti eh 47 secondi di vantaggio devo andare su dalla scala cristo ciao ciao no ero arrivato non so quanti minuti ce l'ho fatta no prendiamoci prendiamolo prendiamolo e adesso qua dove cazzo è? oh ma come cazzo ha fatto con la prendola porca puttana come cazzo ha fatto? maremma trova però prendiamo un mega vantaggio mi ha superato sto qua mi ha superato benone benissimo direi ma porca merda ma porca merda ok preso va bene siamo 1 minuto e 46 da lui forse lo raggiungiamo andiamo a vincere questa cazzo di gara oddio adesso qua cosa c'è sulle palafitte cazzo siamo qua nelle favelas mannaggia il cazzo oh bene di una ascella più rincorsa più rincorsa e lo prendiamo cazzo mamma mia mamma mia questa sì che è una gara una gara da bestemmie e siamo tornati preso che questo in vantaggio siamo 11 minuti di gara quindi fate un po' voi e adesso qua porca la merda dove cazzo vado via 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 preso preso anche questo vai va cazzo mamma mia che gara cazzo che gara questa sì che è una gara da malati guardiamo ma porco giuda ok qui siamo arrivati ok eravamo dietro di due minuti abbiamo già superato il tizio che era davanti a noi perfetto minchia perché era gara ragazzi che gara intanto così vedete la scritta binwood binwood vai in numero dopo cazzo si dice in alto a destra e la mia morte ma porco cazzo e mancano 12 check point alla fine forse il grosso l'abbiamo fatto forse ho prevedo altre bestemme non lo so sì ne prevedo altre ne prevedo altre cazzo è grandissimo vediamo che questo check point ci fracassiamo i coglioni minchia riproviamoci dai ho preso che questo finalmente bene 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 cazzo mi ammazza il palo signori signori manca un ci stavo per dire manca poco il traguardo è il cazzo che manca poco è il cazzo ok nooo dai 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 alex dai dai si era kaiser oh piano 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 qua la vedo dura vince vince direi che qui mi piace ci sta e come vi ricordo che metto i link italiani in descrizione così potete aggiungere anche voi non